scegli oggi il tuo domani ciao sono moreno carullo mi sono laureato in informatica all'università degli studi dell'insubria oggi mi occupo di cyber security con la start up nozomi netters che ho fondato assieme a un mio compagno di studi andrea carcano il percorso all'università dell'insubria che ho fatto parte dalla triennale sino alla magistrale e al dottorato e mia permette di acquisire delle conoscenze in informatica e poi specializzandomi in intelligenza artificiale ingegnere del software che sono state fondamentali per avere delle competenze specifiche competitive e che consentono oggi all'azienda che abbiamo fondato di essere competitiva e leader nel settore grazie a tutti